Il Salone Nautico 2023 non è solo imbarcazioni da sogno, imbarcazioni per tutti i giorni, ma ci sono anche momenti di approfondimento, convegni, conferenze, incontri con gli autori, tutto per fornire uno spaccato su quello che l'attualità della nautica offre al mondo contemporaneo. Tra le tante cose che si possono vedere al Salone c'è anche il sommergibile, ricordandolo, un SSK, cioè un sommergibile che è abilitato a sparare sebbene non l'abbia mai fatto. Queste e tante altre novità sono il cuore pulsante di questa quarta edizione del Salone Nautico. I temi più importanti dell'attualità, tra elettrico, idrogeno, foie, sostenibilità e futuro, sono affrontati all'arsenale tra la Sala Modelli, il Salone degli Squadatori e la Torre di Porta Nuova. Non mancano momenti in cui avvicinarsi alle nuove tecnologie e capire lo stato dell'arte di un settore che comporta 7 miliardi di fatturato, di cui 3,3 diretti verso l'export. Tra le curiosità che si possono vedere, grandi e piccini si possono avvicinare ai 46 metri del sommergibile Enrico Dandolo, ma non mancano momenti di condivisione come l'insegnamento della voga grazie a campioni che hanno fatto la storia del Remo. Gloria Rogliani, come sta andando questo Salone Nautico 2023? Io sono qui dal giorno dell'apertura e ho visto tanto entusiasmo, molta gente ed è sempre più aperto, un po' aperto a tutti, associazioni, aziende. È molto importante perché tradizione e innovazione è un binomio vincente, quindi sta andando molto bene. Noi abbiamo avuto un sacco di bambini che hanno provato la voga, sono andati in giro, hanno visto la parte storica e poi anche la parte moderna, futuristica, quelli di queste grandi barche. Ed è importante far capire la sostenibilità anche di questo, quindi partire anche dalla lezione di voga a Remi, quindi la vera forza dell'arsenale per arrivare e proiettarsi al futuro. Non ci potrebbe essere un passaggio se non si parte dalla tradizione per arrivare alle grandi opere. C'è quindi speranza per il futuro della voga con i giovani? Io credo di sì, più che speranza c'è la parte che bisogna fare apprendere e fare il passaggio di fare apprendere questa voga, ma non solo per la voga in sé, il gesto tecnico, la regata, che sono tutte cose molto importanti, ma far vedere che noi nella voga abbiamo anche la sostenibilità, l'inclusione. È importante per arrivare all'agenda 2030 partire proprio dalla tradizione, pur avendo sempre l'innovazione. Se la tradizione è valorizzata dalle tante remiere che si avvicinano in Rio delle Galeazze, ecco che c'è chi guarda oltre la laguna, come il presidente dello Yacht Club Venezia. Mirko Sguario, Salone Nautico 2023, c'è la scivoga? Sì, è la seconda edizione della scivoga. Questo evento che ho voluto per cercare di portare non veneziani a conoscere la voga. e con grande piacere, piacere da una parte e dispiacere dall'altra. Un quarto dei concorrenti è veneziano, tre quarti sono da fuori Venezia, che fanno la prima esperienza con la voga. e questo è molto appagante e ne siamo molto felici perché questa è una maniera splendida, la ritengo, per poter far vedere agli altri che cos'è la voga Venetra. Un'adesione che viene da dove principalmente? Ma guarda, da Monaco, da Bologna, da Modena, da diverse città italiane e anche ti dico da Monte Carlo, da Monaco. Grazie mille. All'interno del Salone Nautico di Venezia saranno numerosi gli appuntamenti scientifici, i workshop e i meeting. Per tutti il filo conduttore sarà la sostenibilità per indagare i diversi temi legati all'andare per mare in maniera rispettosa della natura. Sede principale dell'attività sarà la Torre di Porta Nuova insieme alla Sala Modelli, con spazi attrezzati per gli eventi principali che si articolano in un totale di cinquantina di appuntamenti lungo i cinque giorni della manifestazione. Stiamo entrando nel sottomarino Enrico Dandolo, grazie alla guida che si chiama... Ilaria Niero della Fondazione Musei Civici di Venezia. Andiamo dentro a vedere che cosa si può vedere al Salone Nautico 2023. Enrico Dandolo, che già il nome è molto suggestivo e importante per Venezia, essendo stato uno dei doji della Repubblica Serenissima, Doge che ha vinto la quarta crociata e grazie a cui abbiamo i quattro cavalli sulla Basilica di San Marco. Quindi un nome molto evocativo, anche se l'Enrico Dandolo non nasce a Venezia, nasce a Monfalcone alla fine degli anni Sessanta e arriva all'Arsenale nel 2002. Quindi con la visita è possibile visitare le tre camere. Qui adesso siamo all'interno del locale Motori. Come vedete la propulsione era diesel elettrico, quindi il motore elettrico. Questo invece è il motore diesel. Attenzione qui alla testa, vedete queste erano le porte stagne, perché ovviamente se c'era un qualche tipo di emergenza c'era la necessità di chiudere ermeticamente. Quindi attenzione. E appena avarcata la soglia vi trovate alla vostra destra del locale RT, quindi radio e sonar. Potete vedere che in 46 metri di lunghezza e meno di 5 di diametro, perché il diametro è 4,75 metri, gli spazi sono assolutamente, se la giocano, quindi sono proprio studiati e una sorta di puzzle, ok? Quindi veramente studiati al millimetro. Grandi e piccini potranno adentrarsi in quello che è un vero e proprio monumento alla Guerra Fredda, in grado di ospitare ben 28 persone. E qui siamo proprio all'interno del cuore, ma anche cervello del sommergibile. Questa infatti è la camera manovra, questo è il tavolo tattico, dove appunto veniva calcolata la rotta, la posizione della nave, e poi qui siamo proprio vicino al re del sommergibile, che è il periscopio. Questo invece è una sorta di computerino, il chiamato sistema d'arma, da cui venivano comandati i siluri. Dunque il Dandolo viene costruito alla fine degli anni 60, nel 67, entra in azione nel 69, e grazie appunto a queste caratteristiche di compattezza, ma anche silenziosità, infatti l'obiettivo dei sommergibili era quello di pattugliamento delle acque del Mar Mediterraneo, infatti il Dandolo ha lavorato per lo più nelle acque di Augusta, in Sicilia. La silenziosità permetteva appunto l'ascolto, il recepire dati e poi trasmetterli. Infatti i sommergibili non hanno una funzione di attacco, ma appunto di controspionaggio diremmo. Infatti anche se era dotato di sistema d'arma, non ha mai sparato il Dandolo. Questa è la cucina, il cibo si può pensare che fosse un alimento secondario, in realtà era importantissimo perché immaginate giorni chiusi qui dentro, quindi la cucina e il cibo rendeva tutto più leggero, quindi era una parte importantissima della vita dell'equipaggio. Infatti ancora oggi c'è una tradizione che è la pizza di mezzanotte, quindi a mezzanotte rigorosamente si prepara la pizza. Potete vedere appunto qui abbiamo un frigo, è un frigo anche abbastanza piccolo, infatti la durata della missione dipendeva sia dal carburante sia appunto anche dalle scorte di cibo. Quindi il cuoco doveva essere molto abile a preparare cibo buono anche con poco, quindi qua vediamo scatolette, fagioli, pelati eccetera, ma doveva un attimo ingegnarsi. Qui invece proprio di fronte abbiamo la camera del comandante. Qui invece siamo all'interno del terzo comparto, ovvero la locale camera lancio. La camera lancio potete già notare che assieme ai siluri si svolgeva anche la vita dell'equipaggio. Infatti in questi cassetti che si aprivano si trovavano i letti, le brande. Qui il sistema era branda calda, quindi ci dovevamo immaginare un equipaggio di 28 persone, non erano sempre tutti attivi, allerta, di guardia, ma si davano i turni. I turni funzionavano 4 di guardia e 4 di riposo. Chiamata branda calda appunto perché tu andavi a svegliare il tuo compagno e ti mettevi nel letto che era appunto ancora caldo. Dormivano direttamente sopra i siluri. Questi siluri che vediamo fortunatamente non sono mai stati sparati, ma erano dotati di filoguida, filoguida che appunto permetteva di telecomandarli dal sistema d'arma che abbiamo visto prima e aveva anche un'attestata autocercante. Quindi all'interno c'era una sorta di sonar che si metteva all'ascolto per individuare esattamente l'obiettivo. Una delle attrazioni più visitate del Salone Autico è senz'altro il suggestivo a Sommergibile Enrico D'Andolo. Costruito nel 1967 a Monfalcone, il Sommergibile è entrato in attività due anni dopo, operando per una trentina d'anni nell'area siciliana, prima di essere disarmato. Il D'Andolo è un cosiddetto SSK, che sta per Submarine Submarine Killer, cioè un mezzo che all'eventualità è in grado di sparare, sebbene nella sua carriera non ne abbia mai avuto l'esigenza. Fa parte della cosiddetta classe Totti, perché il primo costruito si chiamava Enrico Totti, che è al Museo della Scienza di Milano. Poi ci fu il D'Andolo, qui esposto all'arsenale, e il Nazario Sauro, finito a Genova. Tra i quattro sottomarini iniziali c'è anche il Bagnolini, che però è stato dismesso e non esiste più. Venezia e il suo arsenale saranno così palcoscenico di moltissime attività ludico-sportive ed esibizioni per grandi e piccini, in cui si potrà scoprire il mare e la secolare arte navale della Serenissima. Nel tranquillo specchio d'acqua del Rio delle Galeazze tornano le prove in acqua. Proprio qui i visitatori potranno mettersi alla prova nei diversi sport remieri, tra cui la vogala Veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat. Le attività non prescinderanno mai dalla sicurezza, grazie alla presenza di assistenti esperti incaricati di supervisionare ogni momento. Scivoleranno sulle acque del Rio delle Galeazze anche le gondole dell'Associazione Gondolieri Venezia, pronte ad offrire escursioni a bordo dell'imbarcazione più famosa e amata al mondo. Nata a Venezia come mezzo privato per i patrizi della città, la gondola è stata l'imbarcazione più adatta al trasporto di persone fino all'avvento dei mezzi motorizzati, grazie alle sue caratteristiche di manovrabilità e velocità. All'arsenale si potrà anche partecipare a laboratori didattici di disegno assistito, di manualità, uso di mappe e bussola, laboratori di nodi, antichi mestieri, costruzioni e imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici, mini tavola rotonda sulla regata storica, l'arte, le storie e canti veneziani. A terra sarà inoltre posizionato un sandro, un'imbarcazione tradizionale veneziana che farà provare l'esperienza della voga ai bambini. A questo si aggiungerà un divertente percorso ginnico e di sopravvivenza, oltre a caccia al tesoro. In acqua invece ci sarà a disposizione un dragon boat, un modo per provare la bellezza di rimane sulle acque dello specchio d'acqua dell'arsenale. Venezia è da anni in prima linea, candidata mondiale come capitale della sostenibilità, grazie alla sua natura di città nata del mare, che la rende un laboratorio a cielo aperto capace di guardare al futuro. Il suo senale per 5 giorni fino al 4 giugno sarà così il palcoscenico della discussione su tematiche di respiro internazionale. Non solo la costruzione e propulsione delle barche, ma anche le detrificazioni dei porti, i sistemi di ricarica, il monitoraggio del mare, le nuove applicazioni e tecnologie per la protezione ambientale del territorio. Sempre, senza dimenticarsi la transizione ecologica, il design e un turismo economicamente conveniente legato alla Blue Economy. Le esposizioni lasciano così spazio anche a convegni tecnico-scientifici, conferenze, esposizioni, attività ludico-didattiche per bambini e famiglie, oltre il connubio con lo sport. Nella sola giornata di oggi si sono tenuti approfondimenti come la tavola rotonda, l'elettrificazione nei porti e il convegno infrastrutture di ricarica rapida a servizio della nautica elettrica, ma anche la presentazione dell'undicesimo report dell'economia del mare con i premi Blue Marine Award. È un momento di riflessione sui rilievi archeologici che si stanno svolgendo a Malamocco. Grande spazio è riservato anche a Movie Yacht Project 2023, un'esposizione che presenta i lavori selezionati tramite il Bando Internazionale per la Selezione di Studi e Progetti di Barche, navigazione sostenibile promosso dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, assieme al Comune di Venezia e Vena. I 55.000 metri quadri dello specchio d'acqua dell'arsenale esprimono il lusso, lifestyle, tecnologia e innovazione. Domani parleremo, nella quarta puntata di questo speciale sul Salone Nautico, di cantieristica locale coniugata all'innovazione. Cercheremo di scoprire quali sono le novità nel campo dell'idrogeno, dell'elettrificazione, anche attraverso le colonnine e come si ricaricano le barche di nuova generazione. Salone Nautico,